Sorpresi con mazzette per 50.000 euro sotto il sedile della macchina ed oltre un chilo di hashish, sono così scattate le manette per due giovani. La coppia, lei una 23enne italiana e lui un trentenne marocchino, è stata fermata la scorsa domenica lungo la 1 al casello Valdarno a bordo di un'utilitaria dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Battifolle. L'uomo al controllo ha esibito una patente falsa ma i poliziotti hanno subito notato che il documento aveva qualcosa che non andava. Gli agenti inoltre si sono ricordati di averlo pizzicato qualche mese prima al volante senza patente. La coppia è stata così portata in caserma dove gli investigatori hanno passato l'auto al setaccio. Dal sedile posteriore sono spuntate otto mazzette di banconote di vario taglio per un totale di quasi 50.000 euro, presunto frutto di traffici di sostanze stupefacenti. In auto è stato poi trovato un trolley vuoto che, come confermato dalla scientifica, era appena stato usato per trasportare la sostanza stupefacente. In una stanza che la coppia usava come un covo a Fighine Valdarno, gli investigatori hanno infine recuperato anche un chilo di hashish ed altri 1.300 euro in contanti. Grazie. Grazie.